Durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale di Villadogna, svoltasi venerdì, i due gruppi di minoranza hanno chiesto al sindaco Angelo Bosatelli di chiarire la posizione del fratello Bruno, con particolare riferimento alla sua carica di presidente del Pio legato a Betoncelli, una fondazione benefica operante in paese. Come noto, nei giorni scorsi, Bruno Bosatelli, in un servizio vannato in onda dalle Iene, è stato coinvolto in una vicenda legata alla compravendita di un'abitazione a Roma che sarebbe stata pagata con assegni scoperti. Le due distinte interrogazioni presentate dai gruppi di minoranza non sono state però inserite all'ordine del giorno, in quanto non sono state presentate senza il necessario anticipo. A parte questo, il sindaco Angelo Bosatelli ha detto che non ha ritenuto di trattare l'argomento perché ancora non ha avuto occasione di approfondirlo incontrando di persona suo fratello, che in questi giorni è lontano da Villadogna. Il Consiglio Comunale affronterà comunque l'argomento prima di fine anno, probabilmente a porte chiuse, un'ipotesi osteggiata dai due gruppi di minoranza.